Magari potremmo discuterne quando i tuoi guerrieri avranno smesso di cercare di ucciderci. Kayath, prepara il tuo campione. Bello, bello anche il boss di questo assalto. Che il rito della prova abbia inizio! Ok, è già danneggiato di brutto però... Guarda che sfiga! Andiamo a fare una super. Mi servono i nemici piccoli a me. Dove sono? Sedite fuori! Che pezze! Eh vabbè, l'ho sprecata. Ok, almeno un'altra botta di mano che abbiamo data. Eh vabbè. Kayath, il tuo campione cade. Avete onorato le nostre tradizioni. Sei inciampato. Onorerò le vostre. Ci incontreremo presto per... Vabbè, proseguiamo. Andiamo avanti a fare queste tagge. Scoprirai che il nostro talento nella diplomazia è pari a quello nel combattimento. Un po' di pulizia. Un po' di pulizia. Un po' di pulizia. Un po' di pulizia. Un po' di pulizia.